Siamo con Monsignor Lauro Tisi, Don Lauro come preferisce essere chiamato, l'Arcivescovo di Trento. Grazie innanzitutto Don Lauro per averci dedicato un po' del suo tempo per questo incontro prenatalizio, un incontro che peraltro si svolge in una casa di riposo di Trento, questa di Via Veneto. Poi magari ne parleremo, ma vorrei partire innanzitutto dall'attentato di Berlino, un attentato terroristico che arriva alla fine di un anno tra l'altro particolarmente difficile. Io ricordo le sue parole, mi era rimasta impressa una sua frase durante la cerimonia di ordinazione ad Arcivescovo lo scorso 3 aprile. Lei aveva invitato i trentini a non avere paura, ad aprirsi agli altri. Non è un compito così facile in questo periodo? Ma non abbiamo alternative, non ritratto la frase che ho detto allora, perché se noi ci lasciamo dominare dalla paura, abbiamo già fatto vincere il terrorismo ed è quello che vogliono. Per cui io penso che dobbiamo continuare a investire in speranza, ma la speranza viene dall'incontro con le persone e nella misura in cui le frequenti concretamente, realmente, la speranza ti viene e comincia a cambiare idea sul mondo, su di te, sulla storia. Cosa ha pensato quando ha visto le immagini di Berlino? Ma sono rimasto di nuovo soccato come le altre volte e per certi versi ti arriva una mazzata e dici qui siamo da capo ogni volta. Ma per fortuna siamo da principio ogni volta perché dopo questi fatti tu vedi che la gente non molla, si esprime una pietas, si attivano circuiti anche come quello del ricordo, magari di qualche manifestazione per dare un messaggio in controcorrente. Per cui quella è una parola soccante, ma scatena ogni volta un inizio, un principio di umano che prova a rilanciarsi e a ripensarsi. Il Presidente Rossi, il Presidente della Provincia Rossi, ieri ha detto che il rischio però è anche quello di rimanere un po' anestetizzati nel vedere troppi di questi attacchi, quasi tra virgolette come diventassero la normalità e quindi bisogna anche sviluppare degli anticorpi in questo senso. Sicuramente bisogna sviluppare degli anticorpi e per me l'anticorpo ce lo danno proprio queste festività per certi versi dove andiamo a riscoprire la visita agli amici, la visita magari a qualcuno ferito dalla vita, sono anche giorni di incontro. Ecco l'anticorpo vero è far la fatica di uscire di casa, di incontrare, di frequentare, di stare realmente con gli altri, non virtualmente ma realmente con gli altri. Lei celebrerà la messa del 24 dicembre, vigilia di Natale, nel carcere di Trento, perché questa scelta? Ma innanzitutto considero un privilegio che il carcere abbia accettato che io celebri con i detenuti è poi un privilegio per me perché sono sicuro che lì trovo Gesù Cristo e sono sicuro che all'interno di quel mondo così attraversato dal dolore e dalla sofferenza Gesù Cristo abita perché Gesù Cristo non abita dove c'è il buono, il pio, il devoto abita dove si soffre, sei sicuro, lì sei sicuro, da altre parti non sempre e per cui per me sono sicuro che almeno lì incontrerò concretamente la carne di Cristo e Gesù di Natale. Tra l'altro proprio quest'anno è morto padre Fabrizio Forti, è morto quindi anche un punto di riferimento per i detenuti stessi perché lui si recava nel carcere di Trento, oltre che per chi vive in margine e frequentava la mensa dei cappuccini. Come ha pensato di risolvere questa grave perdita? Ma in questo momento abbiamo nominato un nuovo capellano che prenderà esercizio proprio con la notte di Natale padre Stefano Zuin, un missionare comboniano che ha fatto tanti anni in Malawi, in Ecuador e vogliamo portare avanti quello che padre Fabrizio ha fatto. Padre Fabrizio è un unicum, probabilmente irripetibile perché secondo me aveva un carisma, una marcia in più soprattutto sul fronte dei detenuti, sul fronte dei poveri ma in particolare dei detenuti io l'ho visto lavorare in carcere, è qualcosa di sorprendente, i detenuti soffrono tantissimo di questa mancanza allora su quel fronte si è cercato appunto di trovare una persona che avesse esperienza di un umano sofferente come può essere padre Zuin nel mondo missionario, poi stiamo tentando di inserire il responsabile pastorale universitario Don Mauro Angeli con un gruppo anche di giovani che hanno cominciato a entrare che stanno facendo alcune puntate, certamente il dolore è talmente grande che per quanto mettiamo lì è sempre una goccia nel mare per la mensa i padri Capuccini hanno attivato con un padre Massimo un nuovo modo di operare più che un nuovo modo di operare, hanno continuato l'opera di padre Fabrizio che poi però come padre Fabrizio non è ripetibile ma mi pare che proprio i volontari stanno onorando la grande padre Fabrizio perché stanno dando tantissimo e non si sono mai fermati un minuto dalla morte di padre Fabrizio La messa in carcere quando è stato in consiglio provinciale l'appello a dare spazio ai giovani e poi gli auguri di Natale qui in una casa di riposo, dunque l'attenzione agli anziani c'è bisogno di segnali forti secondo lei? Ma più che dare segnali forti per me è naturale stare con la gente perché non penso a un vesco in un palazzo quello è proprio la cosa che mi pesa di più per certi versi di essere identificato con uno che abita in un palazzo io vorrei che fosse la gente il mio palazzo e quindi mi pare naturale stare con la gente, stare in mezzo alla gente ho poi questa questione dei giovani che veramente mi sta a cuore perché secondo me lì c'è il futuro io vedo già anche alcune dinamiche nuove che si stanno muovendo i nuovi giovani ad esempio parlano molto di sé cosa che la mia generazione non faceva questo sarà il futuro e questo ci dice che sarà un futuro di relazioni contrariamente a quello che pensiamo c'è una domanda fortissima di relazione interpersonale di narrazione, di racconto di sé questo i giovani non stanno vivendo e forse noi adulti dovremmo svegliarci a cominciare a copiare qualcosa la chiesa anche quella umile diciamo di papà Francesco è stata spesso accusata di predicare bene ma di mettere in pratica un po' meno i propri insegnamenti soprattutto ad esempio per quanto riguarda il coinvolgimento nel mondo degli affari lei tra l'altro venerdì incontrerà i dipendenti di un hotel di Trento che rischiano di perdere il posto di lavoro perché la proprietaria di quella struttura avrebbe alzato di tanto l'affitto la società proprietaria di quella struttura è partecipata dall'ISA che è l'elea finanziaria della Curia cambierà qualcosa nel prossimo futuro in questo senso? ma adesso non voglio entrare nel merito di questa questione che io sento la necessità di incontrare e di capire perché è una questione che non avevo neanche sotto mano quello che stiamo facendo abbiamo fatto anche recentemente la questione presbiterale sarà un ragionamento su tutta la nostra realtà di strutture e la nostra realtà anche amministrativa perché vogliamo arrivare a comunicare concretamente come stanno le cose attraverso un percorso concreto e reale di comunicazione dei dati e poi ripeto il singolo caso non l'ho presente per cui direi una sciocchezza se adesso mi avventuro su questo terreno che invece sto approfondendo per l'incontro di venerdì quello che abbiamo già affrontato in consiglio presbiterale prossimamente faremo anche col consiglio pastoral di Cesano è proprio come nei prossimi anni muoverci sul piano amministrativo, economico strutturale per cui voglio coinvolgere le varie componenti della Chiesa per affrontare fino in fondo questa questione e per far sì che ci sia un percorso dove la gente ci percepisse in modo trasparente per cui nei prossimi tempi vedrà che cercheremo di far di tutto per arrivare a comunicare chi siamo e come sono messe le cose anche per informare correttamente e vorrei arrivare proprio a una totale trasparenza perché mi rendo conto che questo altrimenti altera veramente la possibilità per noi di essere efficaci ma oltre ad una migliore comunicazione lei pensa anche che ci saranno dei cambiamenti in futuro? ma sicuramente ci saranno dei cambiamenti anche perché la gestione delle nostre strutture ci sta mettendo a dura prova noi non potremmo essere quelli di ieri perché non abbiamo né le risorse né ormai strutture che siano possibili continuare a gestirle così perché abbiamo bisogno di un cambio di passo anche perché i costi sono veramente importanti e sicuramente stiamo ragionando in questi termini a fine gennaio avremo un incontro con tutti i consigli di amministrazione delle parrocchie per proprio pensare su questo terreno come fare perché siamo costretti dalla realtà a cambiare per cui sicuramente ci sono dei cambiamenti ma lei ha un'idea di come andranno questi cambiamenti? ma la mia idea è quella di andare in una direzione di grande sobrietà di grande far sì che le strutture siano per le persone e non per altro e di contenimento di tutto quello che potrebbe essere spese inutili e poi una programmazione delle strutture per cui andremo probabilmente anche a dover ritoccare alienare qualcosa perché così non possiamo andare avanti la macchina è sproporzionata e come riusciremo a far vedere i costi di gestione ci costringono se non altro questi a cambiare ma la mia idea è quella di una sobrietà e di una direzione che faccia vedere che noi siamo per le persone e non per altro e poi di fare i passi con la gente e comunicando Comunque lo si veda questo 2016 è stato un anno particolare per lei il 3 aprile lo abbiamo detto è stato ordinato vescovo di Trento aveva seguito anche da vicino il suo predecessore Monsignor Luigi Bressan ma si aspettava che il lavoro di arcivescovo sarebbe stato così alludo a questi mesi insomma ad aprile a questa parte? Ma tutti i giorni è una sorpresa quello che mi sorprende in positivo è che la gente è veramente valida e buona io ho avuto l'occasione di apprezzare tantissimo la gente le persone anche chi non è della nostra partita ecclesiale ho visto che se ti metti a disposizione c'è tanta voglia di confrontarsi, di collaborare per cui mi trovo davanti a una realtà che mi si sta semplificando davanti e questo mi fa piacere Del resto i trentini l'hanno anche ricambiata con un grande affetto mi sembra almeno fino a questo momento trova ancora il tempo per andare nei boschi della sua varrendena? Dopo di allora non sono più andato sono andato anche pochissimo a casa perché questi mesi sono anche mesi dove devo riorganizzarmi ma sicuramente troverò più avanti lo spazio per qualche puntatina Siamo in chiusura di questa intervista allora le chiedo cosa vuole augurare per Natale e per il 2017 un po' a lei e soprattutto ai trentini anche ai nostri telespettatori Io vorrei augurare che tutti torniamo in un attimo di silenzio a scoprire una cosa che abbiamo bisogno di essere di qualcuno e di essere per qualcuno prima di questa intervista lei mi raccontava della sua esperienza di madre forse di imparare dalle madri a gioire per l'esistenza degli altri e a prendersi cura degli altri Grazie allora Don Lauro per questa intervista grazie per questi auguri ovviamente anche a lei auguri di buon Natale e buon 2017 Grazie mille Arrivederci Arrivederci Grazie mille 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 Grazie mille